buongiorno amici e benvenuti ai test di studio 137 come sapete la mia pagina quindi la pagina di studio 137 è completamente dedicata ai microfoni e in particolare ai microfoni per uso live e a quello ovviamente le cose che ci possono girare intorno a livello di attrezzatura stamattina voglio farvi vedere due cose una è veramente una cosa molto interessante una chicca per voi è un microfono vintage un microfono storico è un m 500 della bayern dynamic di cui vi parlerò a breve e un'altra cosa molto interessante che ci sarà in questo scatolino in questo scatolino c'è un piccolo preamplificatore microfonico che adesso vi spiego bene a cosa serve ve lo faccio vedere prima c'è una bella bustina eccolo qui ovviamente si attacca con l'xlr al microfono e diventa un preamplificatore adesso ne parliamo allora il preamplificatore questo preamplificatore è della triton audio e si chiama fiat head allora iniziamo a parlare un pochettino del del microfono allora microfono come vi dicevo è un microfono vintage quindi purtroppo non si sa perché perché poi cose strane la bayern dynamic non lo produce più la la prodotto dal 1969 fino al 1990 io lo ricordo benissimo perché nei primi live bobby mcferrin utilizzava questo tipo di microfono ovviamente nella versione radio ma la capsula era la stessa l'ho visto usare a frenzinatra sempre intorno a negli anni più o meno negli anni 70 fine anni 70 e la particolarità di questo microfono è che è un microfono a nastro quindi come voi ben sapete esistono tre categorie di trasduttori di microfoni microfoni a nastro microfoni dinamici e microfoni a condensatore questo qui è un microfono dinamico a nastro per cui ha all'interno un nastro di alluminio che prende la vibrazione della vostra voce e la trasforma in in elettricità da poi mandare alla a un preamplificatore eccetera per farlo diventare suono allora caratteristiche l m500 è un ipercardioide quindi ha un una figura polare molto stretta la più stretta che possiamo trovare fra i microfoni vi ricordo che esiste cardioide supercardioide e ipercardioide quindi questa qui è la più stretta che c'è la risposta in frequenza è 40 18 mila hertz l'uscita è 200 home appunto il nastro in alluminio ed è un microfono anche se se lo vedete in confronto al al beta in confronto in confronto al beta è molto più grosso ma è estremamente leggero per cui pesa 270 grammi infatti il beta pesa 278 grammi che cosa dire un microfono molto bello è un peccato che la bayern dynamic non lo fa più perché veramente molto bello i microfoni a nastro per uso live ormai non ce ne sono quasi più sono veramente rarissimi ci sono un paio di modelli della bayern dynamic che però fondamentalmente sono pensati più per studio di registrazione per amplificare strumenti e altre cose quindi non sono particolarmente adatti per la voce e poi c'è una casa americana molto interessante che fa un microfono molto bello per il live che sarebbe la AEA che però costa una cifra blu per cui sinceramente per il live mi sembra un po' poi eccessivo prendere un microfono del genere cioè comunque rimane un po' da studio allora ora i microfoni a nastro hanno per loro natura una uscita diciamo un volume di uscita molto molto basso per cui hanno bisogno di una preamplificazione potente grossa e a questo punto entra in ballo il Fet Head della Triton che è un preamplificatore per microfoni a nastro e dinamici attenzione dinamici ovviamente che hanno un'uscita molto bassa vedi microfoni degli anni 70-80 tipo SM7B Sennheiser MD4 e 41 MD4 e 21 eccetera quindi ovviamente non lo mettete su uno Shure SM58 su un Beta 58 perché già hanno un'uscita alta per cui se lo io ci ho provato anche l'ho messo su un SM58 e distorce perché è troppo forte all'uscita per cui va solamente su microfoni che hanno un'uscita veramente molto bassa quindi i microfoni ovviamente sono microfoni d'epoca i microfoni moderni hanno tutti quanti un'uscita più alta per cui non è necessario questo strumento allora la cosa molto interessante è che è un preamplificatore in classe A quindi pulitissimo non fa assolutamente fruscio non dà nessun tipo di fruscio non colora il microfono per cui semplicemente ve lo alza di potenza di 27 dB quindi tantissimo quindi dà un microfono che praticamente dovete mettere il preamplificatore al massimo per far sentire qualche cosa con questo ovviamente lo potete mettere bassissimo e avete un segnale molto molto potente che dire più fra l'altro costa pochissimo costa tipo 70 euro lo trovate facilmente su Doman su strumentimusicali.net eccetera sui siti ed è appunto abbinabile a un microfono con un'uscita molto bassa quindi ho un microfono dinamico ho un microfono a nastro vintage normalmente e adesso ve lo faccio sentire sul sull'M500 ecco qui l'M500 sentite che bello che bel suono allora come tutti i microfoni a nastro ha un calore giù sulle basse bellissimo molto molto bello questo in particolare è molto bello anche sulle alte perché rispetto ad altri microfoni a nastro arriva anche bene in alto con le frequenze alte arriva a 18.000 Hz quindi è quasi la risposta in frequenza di un microfono a condensatore e rispetto ai microfoni a condensatore ha una morbidezza che probabilmente i microfoni a condensatore non hanno con il pre della Fethead funziona una meraviglia è molto molto bello e che cosa dire attenzione ovviamente il preamplificatore è alimentato dalla Phantom del vostro mixer del vostro amplificatore per cui la preamplificazione arriva dalla Phantom a 48 volt vi faccio un po' vi canto qualche cosa con il beta e con l'M500 metto un po' di riverbero e vi faccio ascoltare la differenza fra questi due microfoni e vi faccio ascoltare i vi faccio ascoltare e vi faccio ascoltare un microfono veramente bellissimo ed è veramente molto c'è un vero peccato che la Bayard Dynamic purtroppo non lo fa più se ne trovate uno fatevelo sapere perché veramente è un'occasione io sono stato fortunato l'ho trovato è veramente un bel microfono grazie a tutti e buona domenica buona giornata